Musica D'apertura i titoli del nostro telegiornale Motori, frigo e computer bruciati per gli sbalzi di tensione Danni ingenti in negozi e abitazioni di via Roma a Fano Furto con spaccata nel chiosco di Umberto Carriera Il terzo in un anno e mezzo Il ristoratore tuona contro il comune Decine di agenti per i controlli anti-covid E nessuno per combattere la criminalità Le marche verso la zona gialla dal 4 dicembre L'annuncio di Acquaroli contattato dal ministro Speranza C'è attesa per il nuovo decreto del premier Conte Stop agli spostamenti coprifuoco e niente veglioni allargati L'unica cosa che mi dispiace è che non posso ritornare a casa mia Io sono di Vienna Black Friday, gli sconti in tempi di pandemia Per alcuni un'occasione, per altri uno svantaggio Per i veri commercianti è uno svantaggio Per i nuovi che hanno bisogno di aprirsi a nuovi clienti Forse è un vantaggio Concerti sui balconi, eventi online e opere d'arte Proiettate sull'arco d'Augusto Il comune presenta le iniziative del Natale Mercoledì la cerimonia di accensione della vente In diretta su Fano TV Buonasera e bentornati sul canale 17 del Digitale Terrestre Per una nuova edizione di Occhio alla Notizia Apriamo con i disagi che si sono verificati questa mattina In via Roma Fano Dove gli sbalzi di corrente elettrica Hanno provocato danni ingenti a impianti E elettrodomestici di case e attività Sbalzi di corrente da alcuni giorni E poi l'interruzione del servizio Guassia alla rete di distribuzione in via Roma Fano Di fronte a Porta Maggiore Dove in questi negozi e abitazioni c'è stato un blackout Ingenti danni provocati agli impianti e agli elettrodomestici Coinvolti frigo, computer, condizionatori, telefoni e stampanti Tutto da aggiustare e in alcuni casi da buttare Già da ieri sera ci siamo accorti che l'insegna Non funzionava particolarmente bene Si spegneva e si riaccendeva in maniera strana Sono scoppiate delle lampadine La corrente in generale non funzionava Ma a quel punto ci siamo resi conto immediatamente Che il problema non era unitario Non era del negozio Perché da qui in giù fino all'angolo Insomma era tutto spento Stiamo cercando di capire cosa funziona E cosa invece è rimasto Sono quattro neon in questo momento scoppiati Diverse lampadine Ma nel negozio forse non è andata così male Intorno alle 10 sono arrivati i tecnici dell'Enel Intervenuti su una cassetta del contatore Situata in Viale Gramci A causare il guasto Secondo alcuni residenti potrebbero essere stati I lavori che stanno eseguendo in questo cantiere Il problema è stato comunque risolto in poco tempo Rimangono però i danni arrecati E ora si prova a chiedere un risarcimento Corrente sta arrivando Arrivata adesso Devo calcolare un attimo le cose Però vedo già che i frigo hanno avuto una perdita di tensione Non si accendono In più c'è la pompa di sotto di scarico Stiamo valutando Perché sono le mezzogiorno Considera che la luce è saltata dalle 9, 9 e un quarto Oltre al danno del lavoro Perché mi è partita anche la mattinata Adesso è da capire l'entità del danno Perché adesso abbiamo ripreso le normali attività Pensate anche eventualmente un risarcimento Adesso infatti chiediamoci Noi abbiamo unificato diciamo le nostre richieste Con una pratica che poi svilupperemo insieme ad altre persone Da presentare un attimino quelli che sono i danni che si sono verificati Come vi siete accorti? C'è stato un forte boato Iniziale accompagnato poi da un fumo bianco Che è uscito dal masterizzatore esterno DVD che avevamo Purtroppo questi sbalzi di corrente hanno provocato danni ingenti Purtroppo sono giorni che vediamo la corrente andare e venire Oggi c'è stato lo sbalzo più grande Per quel che ci riguarda abbiamo perso un computer Completamente bruciato Un masterizzatore esterno DVD E adesso cerchiamo di recuperare due hard disk esterni Dentro i quali c'era parecchio materiale per noi importante Quindi il danno è abbastanza grande I dati anche che avevate all'interno? I dati Fortunatamente noi salviamo tutto su diversi dispositivi Però il disagio è abbastanza grande Proprio perché proprio anche in occasione adesso di un documentario Che dovremo proiettare a breve su Fanno TV Questa cosa potrebbe rischiare di far slittare la messa in onda Perché ci sono dei dati dentro importanti Furto con spaccata nel chiosco gestito da Umberto Carriere In piazzale Cineglia Pesaro È successo la notte scorsa Quando i ladri hanno fatto irruzione rompendo il vetro Della porta situata sul retro del bar Piadineria I malviventi hanno rubato solo cibo e bevande È il terzo furto in 18 mesi Ha scritto il ristoratore Che in un post pubblicato su Facebook Ha ricordato l'alto numero di agenti 25 intervenuti al ristorante alla macelleria Durante la cena organizzata in violazione del DPCM Carriera ricorda anche i 30 agenti Tra vigili urbani e protezione civile Impiegati in centro storico Per far rispettare il senso di marcia pedonale Insomma controlli che invece per Carriera Dovrebbero essere dirottati in altri luoghi Come sotto il ponte della stazione Dove si legge ancora nel post Pascolano indisturbati decine di delinquenti Ladri e spacciatori Conclude a piedi libero nella nostra città E le marche potrebbero tornare in zona gialla Lo ha annunciato su Facebook Il presidente della regione Francesco Acquaroli Mi ha chiamato il ministro Speranza Per confermarmi l'andamento molto positivo Dell'indice RT si legge nel post Se questi dati verranno confermati anche nella settimana in corso Dal 4 dicembre la nostra regione dovrebbe tornare in zona gialla Il ministro prosegue Acquaroli Mi ha anche preannunciato che l'ordinanza in scadenza oggi Sarà prolungata fino al 3 dicembre Poiché i 14 giorni per cambiare fascia Non vanno considerati dal giorno in cui l'ordinanza è stata emessa Ma dal giorno in cui si registra il primo risultato positivo E nelle marche si registrano 12 decessi legati al coronavirus Nelle ultime 24 ore sono morti 7 uomini e 5 donne Tutti con patologie pregresse Tra le vittime anche un anziano di 73 anni Residente ad Apecchio Invece i positivi rilevati nell'ultima giornata Sono 490 su oltre 1.909 diagnosi Dei contagi 114 sono stati registrati in provincia di Ancona 103 in quella di Pesero Urbino 99 nel Maceratese 58 in provincia di Fermo 72 in quella di Ascoli Piceno Poi 44 i casi da fuori regione Negli ospedali delle Marche ci sono 21 ricoveri in meno Per un totale di 655 Diminuiscono i degenti in semi-intensiva Da 150 a 147 Mino 3 rispetto a ieri Ma crescono i pazienti in intensiva Da 90 a 91 E tra i contagiati C'è anche la moglie del governatore Acquaroli Non appena sono venuto a saperlo Ha scritto su Facebook nel pomeriggio Sono tornato a casa E mi sono messo in auto isolamento In attesa di effettuare il tampone Al momento precisa Non ho sintomi e mi sento bene E mentre si spera nel ritorno in zona gialla Continua a livello nazionale Il confronto sulle norme Che entreranno in vigore durante le festività Oggi noi abbiamo sentito il parere dei fanesi I primi segnali di rallentamento della pandemia Fanno seguito le indiscrezioni sul nuovo DPCM Previsto per la prossima settimana Il provvedimento conterrà tutte le norme Per il periodo delle festività Si parla di un allentamento di alcune misure Ma di certo sarà un Natale diverso e più sobrio Come aveva dichiarato il ministro Speranza Infatti il rischio che la Befana porti con sé La terza ondata del virus fa preoccupare Sono tanti però i nodi da sciogliere Dal coprifuoco alle 22 alla chiusura prolungata Dei negozi fino allo spostamento tra regioni Sono giuste queste restrizioni Che potrebbero essere prolungate? Ma potrebbero essere anche giuste Se la situazione rimane questa che è attuale Secondo me sì Si evitano cenoni, si evitano feste? Sì, secondo me sì Non l'ho fatto neanche lo scorso Il cenone, quindi lo posso fare anche quest'anno Poi c'è anche la montatura a livello del governo Di tutto, governativo Però è giusto continuare a mantenere alta questa attenzione Perché la malattia c'è sicuramente Però vogliono mettere paura Vogliono inculcarci delle regole Che magari non ce neanche bisogna La prudenza sicuramente aiuta Le norme possono tranquillamente non piacere Però sono delle norme Quindi l'anarchia è peggio Sarebbe molto meglio fare tantissimi più tamponi In modo da sapere tutti come stiamo E stare più tranquilli E eventualmente fare norme più elastiche Si cerca ancora di evitare C'ho i nipoti che stanno a Milano Se non riescono a venire Sarà un problema Lei è a città del capo Quindi speriamo che si possa allentare di poco Ma che permettano di ricongiungimenti Almeno con i figli e i nipoti Anche se in numero ridotto insomma Quindi anche lei signora è lontana dalla famiglia Guarda, non voglio neanche di parlare Sono un po' lontano Perché io non posso andare là E loro se vengono qua Dovrebbero fare 15 giorni di quarantena Quindi Deve stare dentro casa Purtroppo la situazione che viviamo in questo momento È talmente delicata E quindi non ce lo possiamo permettere Di andare, voglio dire Ad allentare Tutto quello che abbiamo stabilito E poi Ci sono molti pari, ristoranti che sono chiusi Che non so se riapriranno manco il 3 di dicembre Io mi auguro che riaprano anche prima Perché se no qui la situazione non si riesce Voglio dire a sbloccare Anche il coprifuoco mantenerlo alle 22? Certo, sì Sì, sì E volevo ribadire anche di rispettare le regole ovviamente Quelle che ci sono state date Di rispettarle insomma un po' tutti quanti Ma ho visto che anche certa gente non è che le rispetta Apriamo Ma Bisogna essere intelligenti nel proteggerci E nel rispettare gli altri Perché questo succede Io salgo in corriera Gente senza mascherina Metti la mascherina, metti la mascherina Ma non c'è niente da fare L'unica cosa che mi dispiace È che non posso ritornare a casa mia Io sono di Vienna Allora in Austria ovviamente Le Natale lo prepariamo un po' più diverso Un giradischi dove si suona la musica E noi ci diamo tutta la mano E stiamo vicino all'albero Per me Per me È meglio sì Limitare quello Perché è tanto inutile La realtà è questa C'è il contagio Allora C'è ancora un po' di preoccupazione Eh esatto Esatto Secondo me Dobbiamo continuare a rispettare Le distanze A rispettare tutte le norme che ci danno Per la nostra salute E per il bene di tutti Anche nel periodo natalizio Il covid non va via durante il Natale L'ex coordinatore del laboratorio analisi interno A Marche Nord Massimo Valentini In pensione Dallo scorso 15 ottobre Ha deciso di rendersi disponibile A rientrare gratuitamente In servizio Per aiutare la squadra di biologi Impegnata anche nell'attività Derivante dall'emergenza sanitaria Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci Parla di un bel gesto Da parte di Valentini Una scelta che gli fa onore Ha commentato il primo cittadino Sono sicuro che l'azienda ospedaliera Accoglierà con entusiasmo Questa disponibilità Anche perché sarebbe Inspiegabile il contrario In un periodo Concluderici In cui abbiamo Estrema necessità E adesso ci spostiamo Ad Ancona Dove ha preso il via La dodicesima edizione Di Marcangolo Il convegno Dedicato all'oncologia Che mette a confronto Gli esperti del settore Sulle novità scientifiche E quest'anno Anche sui temi Legati al coronavirus Letizia Marchionni Tracciare linee per il futuro E fare il punto Sulle novità scientifiche Sociali Cliniche Relazionali Nell'ambito dell'oncologia Emerse durante il corso Dell'anno Con gli opinion leader Nazionali E gli esperti Del settore Marchigiani È l'obiettivo di Marcangolo Il convegno più importante Delle Marche In campo oncologico Ideato da Rossana Berardi Professoressa ordinaria Di oncologia All'Università Politecnica Delle Marche E direttrice Della Clinica Oncologica Ospedali Riuniti Di Ancona E dal dottor Renato Bisonni Direttore di oncologia Dell'ospedale Murri Di Fermo Che quest'anno Si arricchisce Di approfondimenti Clinico-sociali Legati al covid-19 Marcangolo Quest'anno Si pone il problema Di come superare Questo momento difficile E tracciare le linee Per il futuro C'è stata la costituzione Della rete oncologica regionale Da parte della regione Con un atto formale Questo però In questo momento Significa doversi impegnare Perché la sostanza Di quello che è stato espresso In questi anni Una grande solidarietà Una voglia di crescere insieme Specialmente Con le associazioni Dei pazienti Possa essere confermato E possa essere appunto Nell'agenda Del futuro Dell'oncologia marchigiana Un incontro Tra professionisti Del settore Che giunge Alla sua Dodicesima edizione E che a partire Da oggi 27 novembre E proseguendo domani 28 novembre Si confronteranno Si confronteranno In via telematica Con meeting Multidisciplinari Affrontando tematiche Che vanno Dalle tipologie Di tumori Alle terapie Del supporto All'approfondimento Sull'oncologia Ai tempi del covid Saranno coinvolte In modo attivo Anche le associazioni Di volontariato E di pazienti E di personale sanitario Delle oncologie Marcangolo È una struttura In crescita Una struttura Nella quale Oggi Al centro Ci sono le idee Per il futuro La fantasia È la capacità Di rispondere Al meglio A queste gravi malattie Che possono avere Una risposta Sempre di più Abbiamo le risposte giuste E sempre di più Dobbiamo cercare Di combattere Per vincere E nonostante La pandemia È tempo di Black Friday Il venerdì Che da qualche anno Anche in Italia Viene dedicato Agli acquisti A prezzi vantaggiose Allora vediamo Com'è andata Questa prima giornata Di sconti Nel prossimo servizio Di Angelica Panzieri È il giorno Del Black Friday I diversi negozi Hanno già iniziato Gli sconti Che dureranno Fino a lunedì Dal 20 Al 70% Siamo andati A sentire Com'è andata Questa prima mattinata Io sono sempre Molto contenta Quanto ci sono Gli sconti Quindi Sto andando in giro Per vedere Se ci sono altre cose Da acquistare Che cosa comprate? Ho comprato Vabbè Dei libri Ho comprato Un po' di capi D'abbigliamento E adesso andrò a vedere Le scarpe Perché sono il mio amore Più grande Le scarpe La giornata di shopping Più lunga dell'anno È partita Questa mattina Con la festa Dedicata ai consumi Molti pesaresi Hanno approfittato Del Black Friday Dalle prime ore Del mattino Facendo tappa Nei negozi Del centro storico Per acquistare Capi a prezzi Stracciati L'appuntamento Con gli sconti Proseguirà Fino a lunedì 30 novembre Giorno del cosiddetto Cyber Monday Dedicato Agli appassionati Di tecnologia Per qualche commerciante Un'occasione Per recuperare Le vendite Dei mesi precedenti Che hanno portato Miseri guadagni Nelle casse Degli operatori Sicuramente Un'occasione Noi I mesi precedenti Abbiamo lavorato Ma molto Molto poco Abbiamo iniziato A fare Una vendita Promozionale Da circa Tre o quattro giorni In occasione Del Black Friday E abbiamo visto Un po' di movimento Una scontistica Che non è molto alta Perché comunque Arriviamo a un 20% Su alcune cose Su alcuni prodotti Anche il 50 Però non è semplice Per noi commercianti Perché facciamo Molta fatica Allora Per noi Un'occasione Perché comunque Adesso Per il periodo Che stiamo passando Alla fine Con le promozioni Si riesce un po' A lavorare Anche se noi Comunque Come aziende Come catena Lavoriamo sempre Abbastanza bene Quindi non ci possiamo Lamentare Il tipo di sconti Avete applicato E fino a quando? Allora Noi abbiamo applicato Dalla settimana scorsa Il 20% Poi durante la settimana Abbiamo fatto il 30% Questo weekend Faremo il 50% Io sono partita Con il 30% Ci sono anche qualche Occasione Al 50% Tutti gli accessori Sciarpa Tutto C'è chi invece Ritiene che il Black Friday Sia stato uno svantaggio Soprattutto Per i piccoli commercianti Per i veri commercianti È uno svantaggio Per i nuovi Che hanno bisogno Di aprirsi A nuovi clienti Forse è un vantaggio Però Si trovano male Perché non possono fare Più di un tanto Se no Non ci stanno dentro Ai costi Nonostante questo Lei ha aderito al Black Friday Con quali sconti? Solo Tanto per accontentare Qualche cliente Ad ogni modo Gli sconti sono partiti In alcuni casi Già dal 23 novembre scorso Su ogni genere Di settore E prodotto L'occasione giusta Per concedersi Le più pazze spese Anticipando anche Qualche regalo natalizio È un'occasione giusta Anche per fare Una scorpacciata Di regali natalizio? Sì Adesso magari Scorpacciata no Però qualcuno Sì Già cominciamo Ha trovato buone occasioni? Intimissimi Sicuramente Certo Poi di questi tempi È un'occasione Unica Anche per i negozianti Anche per anticipare Qualche regalo natalizio? Certo Queste giornate Oggi no Ormai abbiamo fatto Però In queste giornate Ci abbiamo pensato Sì sì Sicuramente Abbiamo già visto qualcosa Ha fatto la lista E quindi Sicuramente Tra oggi E domani Sappiamo fino al 29 No? Approfitteremo E adesso le vostre segnalazioni Andiamo a Bellocchi di Fano Dove un nostro reporter di strada Ha fotografato i lavori di rifacimento Della segnaletica orizzontale In particolare Lungo via in Audi Dalla rotatore situata di fronte Al distributore di carburante Fino all'altezza di Panicali Il segnalatore chiede La segnaletica mancava da anni Non sarebbe stato meglio Sistemare prima il manto stradale È pieno di buche e avvallamenti Non sono un geometra del comune Ci scrive Ma forse Era un'altra la priorità Proseguono anche i lavori Nelle scuole di Fano Per adeguare gli ambienti Alle norme anti-covid Il comune fa sapere Che è concluso Il piano di distribuzione Dei nuovi arredi Questa settimana Sono stati realizzati I nuovi camminamenti esterni Di accesso all'istituto comprensivo Matteo Nuti Nel quartiere Puderino E alla scuola Primaria Tombari A Bellocchi di Fano E rimaniamo a Fano Perché questa mattina Sono state presentate Le iniziative legate al Natale Tante le novità Dal presepe di Cartapesta Ai concerti sui balconi Tutti i dettagli Nel servizio di Filippo Pucci Sarà un Natale diverso dal solito Quello che ci appresteremo a vivere Nelle prossime settimane A causa del coronavirus E per questo Sarà rivisto tutto il programma Del Natale Più 2020 Nella città di Fano A partire dallo slogan Ovvero Accendi la tua città Che punta sul Natale solidale Nella speranza Che ognuno di noi Faccia la sua parte Acquistando prodotti locali E aiutando tutti quei settori In difficoltà Infatti da quest'anno Il comune ha realizzato Nel sito visitfano.app Uno spazio dedicato Alla ristorazione E anche allo shopping in città Per favorire l'acquisto Di cibo d'asporto E per le idee regalo Due Anche quest'anno Gli alberi di Natale Collocati in città Il primo Quello di Del Signore Seri Posizionato in uno Dei punti strategici del centro Mentre quello tradizionale Alto 15 metri e mezzo Con 25 mila luci LED Donato dalla famiglia Carletti Di Rosciano In piazza 20 settembre Il 3 dicembre Alle ore 21 Diciamo sui canali televisivi Locali Quindi su Fano TV Ma anche sui social Del comune di Fano I social del comune Ma anche i social Delle associazioni Che ne fanno parte Andrà in onda L'inaugurazione Del Natale cittadino Con l'orchestra Sinfonica Rossini Con l'aurora ginnastica Le ginnaste Che sono diventate Oro italiano Tra le varie luci Posizionate in tutto Il centro storico Anche Piazza Costanzi Quest'anno vivrà Un Natale diverso Dal solito Con l'installazione Di un cielo stellato Grazie all'impegno Degli esercenti Novità anche per la zona Del Pincio I maestri carristi Realizzeranno un presepe Ad altezza naturale Che saranno sui giorni di Roma In una capanna A loro dedicata I luoghi della cultura Non potranno essere visitati I musei sono chiusi Come tanti altri luoghi E per cui abbiamo deciso Di portarla fuori A rappresentarli Sarà l'arco d'Augusto Con una proiezione 3D Dove L'angelo custode del Quercino La predella del Raffaello La palla del Perugino Altre simbologie Che riguardano la nostra storia La romanità Il periodo malattestiano Altri simboli importanti Della nostra città Appariranno magicamente Sull'arco d'Augusto Questo ovviamente Tutte le sere Dalle ore 18 Ogni mezz'ora Niente mercatini dunque Ma grazie alla collaborazione Delle agenzie di viaggio Si è pensata Ad un'originale iniziativa Nelle loro vetrine Dedicheranno spazio A tutti quegli obbisti Che ovviamente rimangono Senza lavoro Per la mancanza di mercatini E coloro che vorranno fare Come regalo Degli oggetti particolari Potranno quindi Girare in un percorso simbolico Nella nostra città Diciamo Tutte le vetrine Dell'agenzia in viaggio Quindi veramente Li ringrazio per questo Anche la musica Sarà protagonista Di questo Natale particolare Oltre alla filodiffusione Musicisti Artisti E orchestre Suoneranno In alcuni balconi Simbolo di questa pandemia Lungo corso Matteotti Nella nostra città Sarà il Fano Jazz Network Ad occupare Quattro balconi Della città Con 12 concerti E 27 artisti Che nelle giornate Dell'8, 13 E 20 di dicembre In un qualche modo Aglieteranno La nostra città Con questi momenti Ovviamente Per tutta l'organizzazione Di questo Natale Devo ringraziare Il Tavolo Economico Devo ringraziare La Regione Marche Ma in questo caso Devo ringraziare Anche la parte operativa Di questo Natale Che è la Proloco di Fano E adesso apriamo Il grande album Di Fano TV Per fare le congratulazioni A Cecilia Andreoni Di Lucrezia Che si è laureata Con 110 Elode In infermieristica Invece Il fanese Tommaso Bracci Si è laureato Con 99 In scienze Della formazione primaria Congratulazioni davvero Vi ricordo Che dal lunedì prossimo Torna su Fano TV A casa di Babbo Natale Nelle giornate Di lunedì Mercoledì E venerdì Dalle ore 18 e 30 I bambini Potranno telefonare Allo 0721 86 14 33 Per parlare In diretta Con Babbo Natale Lunedì sera Invece Subito dopo il telegiornale Alle ore 21 circa Vedete alle mie spalle Il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri Che sarà nei nostri studi Per una nuova puntata Di Primo Cittadino Tra poco invece Una nuova puntata Di Casa Fiorenzo Un altro programma Che sta riscuotendo Davvero un grande successo 338 49 68 250 Invece è il numero di telefono Dedicato alle vostre segnalazioni Grazie per averci seguito Arrivederci Grazie a tutti